Una gara decisa, determinata quella del Petrizio e del tecnico Antonio Manno per sbarazzarsi del San Calogero. San Calogero che viaggia praticamente nei quartieri bassi della classifica ma prima di andare con le interviste vediamo subito il gol in apertura, il gol lampo in apertura è proprio del San Calogero che al settimo, lo state vedendo, c'è uno svarione difensivo da parte della difesa dei padroni di casa e con la complicità ovviamente della difesa c'è Monteleone che riesce a battere il portiere Maiolo. Ovviamente si riorganizza la formazione petrizzese e arriva al pareggio con Valente. Davvero una buona incornata del centroavanti Valente. Di testa riesce a correggere in rete il suggerimento che arrivava appunto dalla destra. Ovviamente 2-1-1, due gol, due bei gol per quanto riguarda il primo quarto d'ora poi si va avanti perché il Petrizio chiude il primo tempo su 2-1. Lo realizza, lo state vedendo, al 26esimo con Modaro pronto alla Sbis. Sfrutta una corsia centrale, c'è un rimpallo con il portiere Ferrazzo per il numero 11 del Petrizio, il 2-1 che sancisce appunto la superiorità. Ma prima di andare all'ultimo gol sentiamo il tecnico del San Calogero, Domenico Romano. Mancavano sette titolari perché chi per un motivo, chi per un altro non sono potuto venire. Quindi affrontare queste partite con ragazzini che oggi avevamo in campo 94, 93, 92 e in più c'erano due o tre elementi che era da quasi 4-5 mesi che non giocavano ed è difficile venire qui a Petrizio. Però bisogna dire che la squadra, lei l'ha detto l'ha visto anche dalla tribuna, era partita bene, era andata in vantaggio, poi due errori difensivi che banalissimi si potevano evitare e poi hanno dato la possibilità al Petrizio di giocare con più tranquillità. Petrizio che va avanti ma, sapete, si complica la classifica del San Calogero. Sì, noi lo sappiamo, noi lo sappiamo, siamo pronti anche ad affrontare possibilmente i play-out. Siamo pronti perché, come le dicevo prima io, noi abbiamo giocatori fuori determinanti per noi. Anche perché noi abbiamo una squadra costruita su pochi elementi. Non è che abbiamo una rosa... quando ti mancano quei tre o quattro elementi manca tutto. Allora parliamo di chiave campionato per chiudere. C'è il Davoli, c'è il Limbadi, c'è il Filogaso, c'è la Serresi, c'è il Petrizio. Quali sono le squadre? L'Anse, la Coniglia. Quali sono le squadre a questo punto per il salto di categoria? Ma io penso che il Davoli sicuramente vincerà il campionato. Al di là che durante il campionato ha dimostrato di essere la più quadrata come squadra, la più organizzata, l'ho visto io organizzata. Al di là, alcune partite sono andato un pochettino... Ci vuole anche fortuna per vincere il campionato. L'è girato tutto bene, quindi... Io penso che poi c'è la Serresi che è una squadra ostica per tutti. Ci sono uomini di grande esperienza. L'Anse sicuramente mi ha deluso perché andare a giocare... Uno che costruisce una squadra può andare a giocare in dieci uomini. Perché? O perché non hai il fuori quota o perché ci sono gente che non prendono gli stipendi. Mi sembra una cosa assurda. Quindi non penso che... Non ce la farà sicuramente. Anche se farà i play-off non avrà possibilità. Il Petrizio sinceramente l'ho visto bene all'andata. All'andata l'ho visto più quadrato, più forte, più... Oggi un pochettino mi ha deluso. Anche perché io sono convinto che se noi oggi avremmo giocato con la formazione al completo, sicuramente il risultato sarebbe stato diverso. L'analisi della partita, l'analisi del campionato San Calogero, praticamente rassegnato perché c'era la supremazia del Petrizio. Supremazia che si concretizza con il rigore che arriva praticamente a undici minuti dalla fine. C'è un bel lavoro nell'area di rigore del San Calogero di Valente. C'è anche un tocco di mano del numero 5 di Prestia per il direttore di gara che il signor Sorrenti di Tarionova è praticamente calcio di rigore. Dal dischetto, lo state vedendo, stiamo staccando proprio sull'immagine del rigore, si porta Valente che realizza il 3-1 per la formazione del Petrizio e la doppietta personale della giornata. Ma per l'analisi in casa del Petrizio sentiamo il centrocampista De Giorgio. Sì, certo, oggi dovevamo assolutamente vincere, avevamo solo il risultato a nostra disposizione che era la vittoria e fortunatamente siamo riusciti a portare i tre punti a casa. Quindi a parte i primi 5-10 minuti fino a quando abbiamo preso il gol, dopo abbiamo disputato una partita quasi perfetta, se non perfetta del tutto. Ecco, quanto può migliorare ormai quattro partite il Petrizio perché praticamente se la vuole giocare sino in fondo questo campionato? Adesso dobbiamo cercare in tutti i modi di fare bottino pieno in tutte le quattro partite che rimangono e cercheremo in tutti i modi di vincere queste ultime partite perché dobbiamo arrivare almeno quinti per fare i play-off perché l'organico ce l'abbiamo e quindi dobbiamo per forza puntare ai primi posti della pocola civica.